Un abbraccio sembra ormai una pratica dimenticata in questo tempo segnato dalla pandemia, ma un abbraccio fa bene, scalda il cuore, rinfranca lo spirito, fino a generare effetti positivi addirittura sulla salute. È per questo che all'IPAB Sant'Antonio di Chiampo è stato installato e inaugurato il tunnel degli abbracci, per un toccarsi fisicamente senza pericolo, mentre il giorno 11 gennaio inizieranno le vaccinazioni per gli ospiti e il personale. Il tunnel è frutto di varie donazioni e permette di riattivare così le visite in presenza dei parenti.